Gentili telespettatori, buona giornata. Severgnini, giornalista del Corrierone della Sera, è da Lilli Gruber, ma secondo voi viene invitato perché? Indovinate un po'. Viene invitato perché è un odiatore di Matteo Salvini, cioè è uno che odia Salvini, il capo della Lega, e dice che la politica attuale è politica dei falliti, ma il leghista è più di tutti, il più fallito di tutti secondo questo giornalista è Salvini, il più fallito di tutti. E Giorgia Meloni lo guarda, Giorgia Meloni scusate, Lilli Gruber lo guarda quasi in estasi, come dire, insomma ho fatto bene a invitarlo, no? Penserà nella sua mente. E beh, subito dopo l'approvazione del decreto, con il nuovo pacchetto di norme per il dopo Pasqua, ecco che va in onda in otto e mezzo Lilli Gruber, sulla sette, aveva invitato una professoressa e prima di questo giornalista aveva chiesto a una professoressa diceva, ma allora con questo decreto ci sono vincitori e vinti? Come dire, quindi ha vinto Salvini, ha perso Speranza e gli altri? E quella non rispondeva e lei insisteva, ma allora ci sono vincitori e vinti? A un certo punto la giornalista che aveva capito l'antifona, la professoressa che aveva capito l'antifona, no? Stava cercando di fargli dire qualcosa contro Salvini. Allora la professoressa dice, ma abbiamo perso tutti, non ha vinto nessuno, abbiamo perso tutti. E così, alla fine Lilli Gruber è riuscita nel suo intento, no? Di scongiurare questa idea che Salvini avesse vinto. E così, poi ne arriva un altro, arriva anche il giornalista del Corriere che ci mette ovviamente del suo. Beh, l'obiettivo non è realmente parlare del decreto appena approvato, l'obiettivo è parlare male di Salvini, no? È un po' la continuazione del PD, è un po' il salotto sinistro di Lilli Gruber, è un po' come la prolungazione di Letta, ecco, la prolungazione del PD. La Lega, dopo il CDM, Consiglio dei Ministri, ha infatti parlato di commissariamento di Roberto Speranza, per aver spuntato un compromesso sulle riaperture. Beh, ovviamente a Lilli Gruber non piace questo Roberto Speranza commissariato da Salvini, non ci può pensare, non ci ha potuto pensare. E allora invita il Beppe Severgini. Una coppia perfetta per dar contro a Matteo Salvini. E Lilli Gruber chiede anche a lui, perché anche questa volta Salvini ha tutto questo bisogno di dichiarare vittoria? Chiede alla Gruber, al giornalista del Corriere. Ed ecco che Severgini alza il suo ditino e spiega, perché i partiti non vogliono ammettere quello che è successo. Si sono già scordati ciò che è appena successo e Salvini più di tutti. Ma che è successo? Se Draghi è arrivato è perché la politica dei partiti ha fallito. Non è riuscita a fare il suo mestiere. Non si poteva, come Sergio Mattarella ha spiegato andare al voto. Questa cosa un giorno sì e l'altro pure la dimenticano. Quindi alla fine decide Draghi. se c'è una tempesta in mare, dice il giornalista del Corriere della Sera. Ma attenzione, attenzione, Mattarella ha spiegato che non si poteva andare al voto. Insomma, l'opinione di Mattarella è che non si poteva andare al voto, mentre in molti paesi del mondo hanno votato tranquillamente. Noi l'anno scorso abbiamo votato anche per le regionali, non so se vi ricordate. Beh, però se Mattarella ha detto che non si può andare al voto, il giornalista del Corriere della Sera lo prende come la Bibbia. Lo ha detto Mattarella. Ah beh, scusi, mi inchino di fronte alla vostra saggezza e all'altare della patria. Beh, quindi secondo il giornalista i partiti sono dei falliti. Ma ricordiamoci che i partiti falliti erano quelli che erano al governo e la Lega non era al governo. È fallito il governo Conte II. Siamo arrivati a Draghi perché è fallito il governo Conte II. Non è che hanno fallito i partiti, hanno fallito i partiti di sinistra che erano al governo assieme ai Cinque Stelle. Piccolissima differenza. Cara, la mia bella faccia allegra. E così dice, aggiunge, capisco che è difficile ammetterlo, lo è per tutti quanti. Poi ci sono queste giornate di primavera bellissime e ci illudiamo. Cambia il tempo e migliora tutto. Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. Se c'è il mare in burrasca, il comandante ascolta tutti e poi decide. Se c'è il mare in burrasca, il comandante non ascolta tutti. Che va? Va dai passeggeri. Che ne pensi? Che facciamo adesso che c'è il mare in burrasca? Tu che dici? Il comandante... Quindi la frase, il comandante quando la nave in burrasca ascolta tutti, non so dove l'ha visto, forse in un cartone animato. E poi dice, per voi a Draghi non piacerebbe riaprire? Per voi a Draghi non piacerebbe riaprire? Anche Macron ha detto le stesse cose, in più in Francia chiudono anche le scuole. Draghi sulle chiusure non si è svegliato e ha chiesto a sua moglie, conclude il giornalista. E così la Gruber è soddisfatta per l'ultimo attacco a Salvini di una lunga e interminabile serie, perché poi il giornalista dice, beh, insomma, la politica è dei falliti, ma il leghista è più di tutti, è il leghista più di tutti fallito. In realtà su questo Matteo Salvini non c'entra assolutamente niente. Il governo di prima è fallito causa Renzi e causa dei partiti stile scatola vuota. Su le chiusure, i dati, anzi, il vantaggio... La domanda del Ligube è perché Matteo Salvini ha bisogno di far capire che sta vincendo? Beh, certo, lui è capo di un partito. Il partito si è diviso a metà quando è entrato nel governo, dicendo, ma che stai... E l'altra metà è esultato, dicendo, è così che si fa. Si combatte da dentro e non si sta fuori. E quindi lui ha bisogno di far capire a quella metà del partito degli elettori che ha detto sbagli ad entrare che l'essere entrato sta portando a dei vantaggi agli italiani. Cioè i suoi interventi portano a dei miglioramenti di questo decreto. Si voleva chiudere a prescindere tutto aprile senza neanche guardare i dati. I dati di oggi valgono per tutto aprile. E Salvini dice, beh, insomma, guardiamoli ogni settimana i dati. Va bene i dati? Sono concorde. Se c'è da chiudere, chiudiamo. Se c'è da aprire, però apriamo. Non se c'è da aprire, però non apriamo più, perché abbiamo già deciso un mese fa che tutto aprile deve essere chiuso. Ecco. Quindi, cara Gruber, Salvini dice di aver vinto proprio per far capire alla metà del suo elettorato che lo criticava che entrare nel governo è stata cosa buona e giusta. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti.